C'è grande tensione fra il colosso farmaceutico AstraZeneca e l'Unione Europea. Il vaccino è attualmente nelle fasi finali del processo di approvazione con l'Agenzia Europea per i medicinali. Se i requisiti sono soddisfacenti, l'EMA potrebbe raccomandare l'autorizzazione alla missione in commercio entro la fine della settimana, ma il problema adesso è dal lato dell'offerta. Venerdì scorso AstraZeneca ha informato la Commissione che intende fornire nelle prossime settimane dosi notevolmente inferiori rispetto a quanto concordato. Questo ha indispettito Bruxelles, così la Commissaria alla Salute Stella Chiriachides. Le risposte dell'azienda non sono state finora soddisfacenti. L'Unione Europea vuole che le dosi ordinate e prefinanziate vengano consegnate al più presto possibile e vogliamo che il nostro contratto sia pienamente rispettato. L'Unione ha prefinanziato lo sviluppo del vaccino e la produzione e vuole vederne il ritorno. La Commissione pretende di sapere esattamente quali dosi sono state prodotte e dove, se o a chi siano state consegnate. A Strasburgo il vice sindaco dice che un centro di vaccinazione è già fermo a causa della mancanza di dosi, nonostante la forte domanda. Abbiamo un potenziale di 2300 persone da vaccinare a settimana in questo centro e dovremmo scendere a 1500, adattare le dosi con gli appuntamenti, spostare le persone, riprogrammare gli appuntamenti. Potremmo fare molte più vaccinazioni. Quindi c'è un sentimento di frustrazione, una domanda molto forte, ma non si può andare a pieno regime perché mancano i vaccini. Nel frattempo la casa farmaceutica statunitense moderna afferma che il suo vaccino sembra funzionare contro la variante britannica, tuttavia è meno efficace contro quello che è emerso in Sudafrica. La società afferma che sta sviluppando una nuova dose di richiamo anche per combattere questa nuova variante e che sarà disponibile dall'autunno. La società afferma che sta sviluppando una nuova dose di richiamo di richiamo di richiamo